Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, segnaliamo che fino alle 18 di questo pomeriggio è chiuso per lavori il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Boglio in direzione sud. Trovi inoltre personale su strada sempre in A1 tra Aglio e Calenzano ancora una volta verso sud e tra Barberino e Aglio in carreggiata opposta. Infipili resta un chilometro di coda per incidente tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e regolare il traffico altrove. Siamo al trasporto pubblico locale, ricordiamo le modifiche al trasporto di autoline toscane relativamente alla frana che si è verificata sulla SR325. I dettagli dell'offerta sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Reggio Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.